La scelta dei ragazzi di terza media è fortemente condizionata dagli altri. I condizionamenti quali sono? Ad esempio le scelte che effettuano gli amici o i fratelli maggiori. Bisogna stare molto attenti perché poi il rischio è che diventi uno studio negli anni faticoso, pesante, proprio perché non ci si basa sui propri interessi. Un altro condizionamento può essere i consigli, i suggerimenti degli adulti, come ad esempio i genitori e gli insegnanti. Gli insegnanti tra l'altro danno il consiglio orientativo, i genitori poi portano le loro aspettative che devono essere molto chiare. La cosa importante è scegliere sempre con la propria testa, scegliere per proprio conto e non permettere che qualcuno si sostituisca alla propria scelta proprio basandosi su di sé. Grazie